Buongiorno principessi, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, nuovo Get Ready With Me ci sta prendendo gusto ultimamente a fare questi video, non lo so è un periodo in cui ho voglia di sperimentare con il trucco, di testare, di provare i prodotti anche perché ne ho veramente tantissimi da provare, ne ho accumulati tanto in quest'ultimo periodo e quindi oggi ho pensato di realizzare questo look, spero che vi piaccia ovviamente testando un po' di prodotti di Elf che mi sono stati inviati qualche tempo fa, più o meno prima di Natale e io spero ovviamente che questo video possa piacervi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo look io lo adoro, soprattutto le labbra, perché se mi conoscete lo sapete che io amo le labbra così strong, così forti e adoro questo rossetto niente, io vi lascio al video, vi mando un bacione grandissimo muah! Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.